Eccoci qua, il mondo è pieno di gente che ostenta i propri successi, la propria bravura, i soldi, le donne e le esibisce in maniera più o meno malcelata nei propri video social. C'è anche gente che in realtà si preoccupa di insegnare agli altri, non solo per avere un tornaconto personale, ma per condividere quello che conosce, le conoscenze che ha nei più svariati campi, dall'obbistica, all'elettronica, all'informatica, come si coltivano le piante, e ci sono molte persone che sono umidi e lo fanno con passione, animati proprio dalla condivisione, più che da un tornaconto personale. Io dove mi posiziono? Direi che nei confronti della vita sono più o meno a 90 gradi. Avendo deciso, e mi diverto a farlo, di filmare la vita nella sua quotidianità, non è facile, perché ogni giorno ha le sue magagne. Alla fine sembra che io stia filmando una serie di successi, fallimenti. Non c'è nessuna morale in questo. È anche un esperimento che faccio con me stesso, perché come un diario scritto, anche quello filmato, poi ricorda le circostanze per cui uno ha detto alcune cose. E con queste considerazioni, like, ti saluto e ti do l'appuntamento al prossimo video, verosimilmente domani, fino al giorno in cui mi romperò i coglioni di fare questa cosa. Ciao! Grazie!